Luciana, sei pronta? Sì, certo. Non è una sfilata, ma quasi. Va bene. Nome? Luciana... Cognome? Ritorno. Età? 18, a breve 19. Altezza? 1,70 m. Peso? 48. Secondo me dopo questa puntata 47. Va bene. Fai una smorfia. Quanto conta per una donna la bellezza? Beh, per me conta, però io diciamo che conto anche sull'aspetto interiore. Il talento? Abbastanza. L'altezza? Insomma. Il colore dei capelli? Abbastanza. L'altezza dei tacchi? Poco. Il colore degli occhi? Molto. Conoscere al vise? Mi sei di fronte, quindi abbastanza. Simpaticissima. Grazie. Il politico con il quale non andresti mai a cena? Berlusconi. A tutti gli invidiosi d'Italia, cos'hai da dire? Mi rinforza la vostra invidia. Il programma TV preferito? Jerry Scotti, che vuole essere milionario. Perché in Italia le proteste durano un giorno in piazza e poi non se ne parla più? Perché? Lascio decidere agli altri, non lo so. Concorsi di bellezza sono truccati? Poco. Beh, poco, quindi sì. Sì, vabbè. Non ne faremo più uno. Perché ad ogni concorso ce n'è una brutta con il naso da rapace? Non lo so, la scelgono comunque anche per attirare l'attenzione del pubblico. Ma hai notato che c'è sempre? Sì, anche a me è capitato a Miss Italia. Quella che ti ha spinto. No, un'altra, non faccio nomi. A scuola eri brava? Sì. Vediamo un po'. Più brava della classe. Come si calcola l'area del rombo? Diagonale maggiore, per diagonale minore fratto due. Chi ha scritto modernizzare stanca? Cassano. Il Suriname è una colonia di quale paese europeo? Non lo so, passa. Quando è nata la repubblica? 2 giugno del 46, 1946. I tre colori della bandiera francese? Blu, bianco, rosso. La Valle d'Aosta è una regione a statuto speciale? Sì. La regione basca, in quale paese si trova? Paesi bassi, Belgio. Allegria, mi sento comunque molto Mike Buongiorno. Non era quella comunque. Voto la maturità? 85. Stai, sto, come a 7 e mezzo, andava bene? No, assolutamente. Cosa cambieresti in te? Beh, io mi piaccio così come sono. Favorevole o contraria all'abolizione della legge Merlin sulle case chiuse, ovvero alla presenza dei vecchi casinò, anzi casini? Favorevole. Ai distributori automatici di contraccettivi nelle scuole? Contro. All'aborto? Favorevole. Al pagamento del canone Rai? Favorevole. Al pagamento dell'Imu da parte della chiesa? Favorevole. Al taglio di capelli di Alvise? Ho bisogno di qualche minuto, favorevole. Veramente simpatica, eh, questa ragazza. Credi in Dio? No. Credi in te? Sì. Credi in me e te assieme, vero? Beh, un po' troppo presto. Dicono tutte così. Perché? Che cosa studi? Lingua e letteratura straniera. Dimmi, che so, una qualsiasi frase in russo. Da svidania. Cosa significa? Arriva a darci. Ah, me ne devo andare già? Eh sì. Grazie. I tuoi tempi supplementari sono finiti. Come sei stata oggi a Telebari? Beh, devo dire che questo è stato il mio debutto, quindi grazie a tutti voi sono stata benissimo. Come definiresti i tempi supplementari? Una bella trasmissione anche informale, quindi non è la solita trasmissione basata sulla formalità. Ma poi, questo alvise, com'è? Com'è? Aiutaci a capirlo. Com'è? Eh, apprezzo molto, ho apprezzato molto il suo invito. È una persona speciale. Io penso di essermi innamorato, eh. Vabbè, allora, sai cosa succede? Ti facciamo un bel regalo. Mi raccomando, al volo, eh. Come buffon. Ok, prendo. Ma è da maschi. Non mi piace. Come è da maschi? Non mi piace. Hai capito? Ridammela, dai. Va bene, allora, per te è la regola. C'è il conduttore, ormai lo sanno tutti. No! All I got is a machine After all the world has seen